Il vento all'assaggio del Grappa, dell'ore 16.09, è in attivo ordinario 12. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Il vento regionale di Ruggia, provvedente dal terzo centrale, e il vento a Venezia, Santa Lucina, dell'ore 16.11, è in attivo ordinario 1. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Il vento regionale, provvedente da Venezia, Santa Lucina, e il vento all'assaggio del Grappa, dell'ore 16.09, è in attivo ordinario 12. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Il vento all'assaggio del Grappa, dell'ore 16.09, è in attivo ordinario 6. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Il vento all'assaggio del Grappa, dell'ore 16.09, è un momento in attivo ordinario 3.9, è in attivo ideale riempi del Sox- Rotomaci. Il treno in talo alta velocità 89-23 proveniente da Venezia. Il treno in talo alta velocità 89-23 proveniente da Venezia. Il treno in talo alta velocità 90-23 proveniente da Venezia. Il treno in talo alta velocità 90-23 proveniente da Venezia.